Amici appassionati di Motorsport, ciao a tutti da Beatrice Frangione e ben ritrovati a questa nuova puntata di Sport Today dedicata al mondo della Formula 1, oramai abbiamo analizzato tutti i top team che sono stati protagonisti nel bene e nel male della stagione 2023 di Formula 1, rimane solamente lei, la Verdona, l'Aston Martin è quella che era partita benissimo e poi improvvisamente il declino, ma che cosa è successo? Andiamo a commentare la stagione di Fernando Alonso e di Lance Stroll con il mio compagno di avventura, Luca Preti. Ciao a tutti, ciao Beatrice, bentornati. Oggi niente sfondo, perché quando si parla di Aston Martin un po' scende l'entusiasmo. Sfondo, sfondo, no io sono lì, quello che hai visto era il cammino del mio chalet in montagna, quello della puntata scorsa e poi ero a tavola con gli amici dell'F1, te l'ho detto non posso dire, però è una trattoria qui della zona, mai capito. Ok, immagino abbiano anche mangiato e bevuto molto bene. Luca, c'è da dire che questa stagione sembrava iniziata in un certo modo e poi dal canale in avanti per qualcuno è cambiata completamente, perché l'Aston Martin aveva tutte le carte in regola con principalmente direi Fernando Alonso, di andare a disturbare quello che poteva essere sempre una posizione del podio, forse difficilmente la prima posizione, però sicuramente un secondo e un terzo posto li avrebbe potuti raggiungere tranquillamente. E poi però cambia qualcosa, ad un certo punto l'Aston Martin cambia strada, sbagliano lo sviluppo della macchina e da lì si perde tutta l'occasione che c'era per dare poi vantaggio a qualcun altro, invece in realtà di approfittarne e di fare bene. Hai detto benissimo, si sono persi totalmente e nella gara tra virgolette di casa, perché gli stroll mi sembra che siano canadesi di origine, quindi non lo so, a loro l'area di casa ha fatto male invece che bene, perché quello che è successo secondo me non è stato solo una questione tecnica, lì c'è tanto, tanto, tanto dietro nella gestione del team, che non è sbagliata per carità, quello è un grandissimo imprenditore, nelle relazioni col figlio, tante cose, perché quando hanno cominciato a perdere, si è vero, loro hanno sbagliato gli aggiornamenti e può succedere, perché a quei livelli lì tu punti in alto ed è il secondo team, in quel momento Alonso è il secondo pilota nel mondiale, quindi devi esagerare, tra virgolette, non puoi fare qualcosa di assestamento, lo sbagli e con il regolamento di oggi se sbagli una cosa, poi un po' che i gettoni che non hai da spendere, un po' che non lo puoi portare, un po' perché comunque sì sono ricchi, ma non hanno il background di tanti altri team che fanno molto più in fretta a risolvere certi problemi, ma quello che ho visto è proprio una confusione al vertice, per un certo momento si è parlato anche di una vendita dopo che si era parlato del figlio che avrebbe lasciato il sedile per andare a correre in un altro campionato, mille cose, ho visto un Alonso che, la mia sensazione interna, dopo aver letto quello, lo ha aspettato, tra virgolette, durante delle prove, lo ha aiutato, lo ha aspettato durante un Gran Premio, lo ha rispettato, gli ha lasciato la posizione in un altro Gran Premio, quindi ha cercato di tirarlo su, in quella sua capacità di essere uomo squadra, anche uomo guida di un pilota che se vuoi, bravo, perché Stroll è bravo, ma non talentuoso come gli altri e sempre in quest'ombra del fatto che paga papà e quindi sei lì perché paga papà, tra virgolette. È stata una stagione, scusa mi permetto di aggiungere questa osservazione su Lens, è stata una stagione per lui molto difficile, perché penso che anche a livello mentale non sia stato semplice per lui affrontare quello che ha affrontato e il fatto che fosse così evidente, soprattutto a livello di dati, la differenza prestazionale che c'era tra lui e Fernando, Fernando arrivava molto sopra, lui invece arrivava molto sotto. e penso che forse il piccolo scatto, anche se è arrivato un po' troppo tardi, c'è stato dopo l'incidente che ha fatto Lens a Singapore, dopo quell'incidente forse c'è stato un piccolo cambiamento che abbiamo visto poi sul finale, sinceramente devo dire, però Fernando è pur sempre quel ragazzino che tu basta che gli dai quel mezzo, anche solo leggermente aggiustato, perché lo ha dimostrato poi in Brasile, lo ha dimostrato anche poi in Olanda, dopo quella terribile discesa che è venuta dal Canada in avanti, perché ricordiamo caro ragazzo che lo spagnolo nelle prime otto gare aveva conquistato sei podi di cui due secondi posti e si parlava di un lui possibile vincitore a Monte Carlo, si parlava già di un Aston Martin che poteva vincere addirittura a Singapore, in realtà Singapore ha vinto un'altra macchina, ma questi sono dettagli, nel complesso... Singapore aveva avuto un incidente che aveva rovinato il fondo e sappiamo tutti quando rovini il fondo se non hanno un altro da cambiare e lui non l'ha potuto cambiare, cambia la macchina. Ed è stato proprio il fondo il loro problema di questa stagione, cioè loro a Silverstone hanno portato un fondo che in realtà poi non ha funzionato, ti aggiungo anche che penso che quel regolamento, quella regola cambiata sulla flessibilità delle ali abbia un po' influito, perché di solito si va sempre un po' a beccare chi può essere un po' il prezzemolino della situazione, Luca, e penso che loro, al di là del fatto della colorazione della livrea, penso che abbiano dato fastidio. L'hai detto apposta il prezzemolino del colore o ti è venuta così per sbagliare? Mi è venuta così. Non ridere perché sai cosa abbiamo noi qui nascosto, eh? No, io so che hai la carta per farmi attaccare un attacco di ridarola. No, no. Torniamo indietro un attimo a loro e ci fermiamo lì, perché poi parliamo sempre troppo bene di Alonso, io e te. E lì è una squadra. Secondo me sono anche loro un bel team, impostato bene, ma c'è stato qualcosa al vertice che ha distratto un po' tutti nel prendere questa decisione, una certezza che sembra una certezza è quella del motore onda ufficiale solo per loro dal 2026, quindi loro comunque stanno già puntando in altissimo, perché se il motore onda sarà quello che oggi vediamo sulla Red Bull, diventano pericolosi. Sì, quella rettifica, anzi quella specifica fatta a regolamento a loro ha dato fastidio, ma secondo me è un fastidio che ha acuito un problema che avevano già col fondo sbagliato prima. Quando a Monte Carlo hanno tirato su le macchine, vi ricordate che è la prima volta abbiamo visto il fondo e tutti hanno cominciato a parlare di come è complesso, mentre invece anch'io ero convinto che i fondi per l'effetto suolo dovessero essere belli lisci come erano negli anni Ottanti. in realtà tu hai bisogno e necessità di turbolenze nei punti giusti e vi ricordate che stiamo trattando di unghie o piccoli deflettori di centimetri, ne sbaglio uno di quelli, fare un fondo diventa una cosa veramente difficile, quindi secondo me c'è stato tutto un insieme di cose che li hanno plafonati, perché io non li ho visti andare indietro, io li ho visti plafonati mentre gli altri crescevano, quest'altro anno cosa succederà non lo so, perché non si è visto niente neanche nei test dopo, hanno finito molto in sordina con degli esploati di Alonso, secondo me si è ripreso un po' strong nelle ultime gare, si è un pelettino ritrovato, ma perché ha trovato serenità lui, non perché doveva dimostrare qualcosa a qualcuno, perché tanto lui non ha bisogno, e quindi bisogna vedere come va l'inverno, li vedremo i test per dare un giudizio su quello che potranno essere, è un team forte però. Vabbè rispetto a quello che avevamo visto dal suo arrivo in Formula 1 fino a quest'anno non c'era sicuramente l'aspettativa di una Ston Martin così valida, c'è da dire però, mi permetto di aggiungerti, di aggiungere a quello che hai detto tu, io non vedo però il bicchiere mezzo pieno per la Ston Martin quest'anno, cioè lo vedo un po' mezzo vuoto perché si sono andati a perdere per un insieme di motivazioni ovviamente, sia tecniche magari che non solo tecniche, ed è stato un peccato perché la Viero è stato veramente bello, ci hanno illuso un po', ci hanno un po' illuso e poi sono andati a rovinarsi una stagione malamente secondo me, avrebbero potuto fare molto di più. Però io non mi sento mai di fare delle critiche, io piuttosto dico non c'era il bicchiere, punto, cioè non valutabili ma non per dare uno zero, perché come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, è proprio un mio modo di pensare, i dettagli sono così tanti nel determinare la prestazione di una vettura di Formula 1 di oggi, sia sulla macchina quindi sia tecnici, elettronici e esterni, che vista quella confusione in quel periodo non li valuto perché gli do una seconda possibilità, oppure li aspetto, anche perché se non ci avessero illuso così all'inizio, finivo un campionato qui, dicevi sì, l'Aston Martin ha fatto il campionato che ti aspettavi, non ci doveva essere niente di più, niente di meno, anzi avresti detto che c'erano state delle belle gare di Alonso, è che come è detto giustamente, quelle bellissime gare inizio campionato con una macchina che andava forte, sembrava l'unica avversaria della Red Bull all'inizio del campionato, dopo si è persa, quindi è per quello che lo vedi un bicchiere mezzo vuoto. Torno a dire, io voglio sospendere il giudizio e vederli quest'altro anno per dare un giudizio negativo, perché se sbaglia anche quest'altro anno allora no, perché sì è vero, la Red Bull sarà sicuramente la macchina da battere, ma secondo me hanno capito tanto quasi tutti i team quest'anno, quindi ci si riavvicinerà molto e ci potrà essere un po' più di combattimento, se non per la prima ma almeno per le posizioni di dietro, quindi speriamo di divertirci, soprattutto se tolgono quella norma che io pensavo fosse già applicata da quest'anno, in realtà l'hanno rinviata ancora, la diaviazione dei flussi all'esterno che ne hanno sempre parlato come una ragione tecnica per togliere la turbolenza sulle ruote, quindi per creare dell'efficienza, in realtà sembra che venga sfruttato di più per creare problemi all'avversario che ti segue, quindi non permettere che ti seguano. Ecco, se la federazione si accorge che ci sono ancora di questi escamotaggi, io li toglierei tutti, perché come ho detto anche nelle altre puntate, a me piace quando tu cerchi e studi e lavori per ottenere un vantaggio per te stesso, non quando studi per mettere in difficoltà gli altri e farli andare più piano di te, non perché tu vai più forte, è un comportamento antisportivo. Comunque, potremmo vedere. Io voglio sapere anche dai nostri amici che cosa ne pensano di questa considerazione finale di Luca, fatecelo sapere nei commenti, dici anche la vostra in merito alla stagione della Ston Martin, cosa ne pensate, se per voi non c'è stato il bicchiere, se c'è stato un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, la prestazione di Alonso, quello che potrebbero fare o che sperate che faccia la Ston Martin nel 2024, scrivetecelo, ovviamente iscrivetevi anche al nostro canale e seguiteci perché torneremo con altre puntate. Io e il mio caro Luca, Luca, devi mica sfoggiare, ho già paura. No, io voglio salutarvi in questa puntata. No, no, auguriamo a tutti un po' di fortuna. Fortuna, dunque no, non siamo ancora nelle puntate sotto Natale, quindi sì, fortuna a tutti, quella che l'ingegno Ferrari non c'era e per farvi vedere che questi piloti non sono solo aggressività, cattiveria, tecnica. Ve ne faccio vedere uno che noi conosciamo poco perché è molto lontano da noi, ma cosa ha fatto e lo ha fatto per beneficenza. Lo fanno tutti, per carità, qui abbiamo visto su un'Oda con l'alluvione che era spalare il fango alla mattina alle sette, quindi... Ma un'altra cosa da uno che non ti aspetti, giusto? So che tu hai già il calendario, lo vedremo nelle prossime puntate sotto le macchinine e Bottas ha fatto questo calendario per fare una raccolta fondi, ha raccolto anche tanti soldi e vi giuro sto cercando, mi ha dato sold out. Luca, è sold out e quindi complimenti a lui, stagione loro da cancellare, ma lui è stupendo. Ragazzi, guardatevelo, cercatevelo su internet e un bel pollicione su quando trovate le sue immagini in giro, oltre che chiaramente a noi, eh. Vedo che riesce a resistere. No, per ora sto tenendo Bottas. Ok, dai, stai tenendo Bottas. Sto tenendo Bottas. Io vi saluto. Ciao, alla prossima. Cari amici, ci vediamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.